Volti di donne che raccontano storie, scatti in bianco e nero, grazie ai quali il ritrattista nisseno Giuseppe Tambè ha ottenuto numerosi riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale, oltre ad aver conquistato ammirazione e riconoscimenti del pubblico, della critica e degli addetti ai lavori, tra cui Nelita Specchierla, che gli ha affidato il ruolo di direttore artistico della mostra Donna, che si terrà a Lucca dall'8 al 10 marzo, nella splendida cornice di Villa Bottini. Questa volta mi è stato affidato questo combito importante rispetto alle altre esposizioni, quindi è un ruolo di grande responsabilità, perché mi sono occupato della scelta dei fotografi, della scelta delle foto, dell'allestimento della villa. Fotografi importanti del panorama fotografico, fotografi che hanno avuto già dei grandi riconoscimenti. La scelta è stata veramente molto oculata, perché ho voluto che esponessero i fotografi che sanno raccontare la donna nel migliore dei modi. Ed è proprio la figura della donna il soggetto preferito dal ritrattista nisseno, che ama fotografarla in bianco e nero. Sono sempre stato affascinato dello stile hollywoodiano degli anni 40, del cinema ollywoodiano, e quindi ho voluto ricreare la diva di un tempo, quindi l'eleganza, la donna affascinante. Ritratti pluri premiati e apprezzati in tutto il mondo, alcuni dei quali scelti per importanti progetti, come la foto inserita nel libro One Per, prestigioso annuario fotografico a livello internazionale, e quella divenuta simbolo contro la violenza sulle donne. Una mostra fatta a novembre per la giornata mondiale sulla violenza delle donne, dove mi è stato affidato anche in questo caso il compito di fare dei ritratti che insomma richiamassero un po' la violenza sulle donne, quindi è diventata tra le altre cose un fotosimbolo, che è la foto che si intitola Il Silenzio, ed è stata anche l'ocantina di uno spettacolo teatrale sul femminicidio che è ancora in tournée in Sicilia. Tra le tante soddisfazioni ottenute da Peppe Tambè, l'assegnazione dell'ambita menzione d'onore al concorso internazionale FIOF, FIPA Awards 2017, dove la commissione artistica che ha esaminato i suoi lavori ha ritenuto di farlo competere tra i professionisti, pur essendo un fotoamatore. Da due anni a questa parte è tutto un crescendo, quindi contest, premi ricevuti su concorsi e ci sono anche dei progetti futuri che ancora non posso svelare.